Nei piccoli comuni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, mancano medici di base e pediatri. La denuncia arriva dal presidente del Codacons Cilento, Bartolomeo Lanzara, che evidenzia una situazione di disagio aggravata dall'emergenza sanitaria in corso. Molti cittadini hanno espresso preoccupazione lamentando disagi e il presidente della Codacons Cilento è intervenuto con una lettera di richiesta di chiarimenti indirizzata al presidente della regione Campania e al direttore generale dell'ASL. Da tempo ci vengono segnalati i problemi di carenza di pediatri e dei ritardi delle nomine dei medici di base nei comuni dell'area del Parco, spiega Bartolomeo Lanzara. Quindi da anni assistiamo a petizioni di cittadini e denunce dei sindaci del territorio. Gravissima è sicuramente la denuncia dell'avvocato Maria Cristina Rizzo del Codacons relativa alla carenza del pediatra nell'ambito territoriale di Capaccio Roccadaspide. Una situazione divenuta nel tempo ormai insostenibile da parte dei cittadini residenti, drammaticamente peggiorata dalla pandemia in atto. L'area Parco, composta da piccoli paesi, sottolinea Lanzara, soffre più di altri territori perché gli abitanti sono molto distanti dai centri ospedalieri territoriali e con una viabilità soprattutto nei mesi invernali quasi impraticabile perché soggetta a fenomeni di disissesto idrogeologico che isolano per giorni alcune comunità creando gravi disagi soprattutto alla popolazione anziana. Per questo ho chiesto chiarimenti urgenti e il piano della programmazione sanitaria territoriale.